Michelle Impossible, programma Unziker stasera, quante puntate sono, quando finisce, data ultima puntata da lunedì, primo agosto 2022 andrà in onda su canale 5 la replica della prima puntata del programma Michelle Impossible, condotto da Michelle Unziker, scopriamo quante puntate sono previste, quando finisce e la data dell'ultima puntata. Leggi anche, Michelle Unziker e la setta di Maga Clelia, ecco cosa era costretta a fare, foto, Michelle Impossible, quando va in onda? Orario e canale l'appuntamento con la replica del programma della Unziker, Michelle Impossibile è ogni lunedì su canale 5 ma quando inizia e qual è l'orario delle puntate? Lo show avrà inizio a partire dalle 21 e 35. Quante puntate sono, le puntate previste per il programma di Michelle Unziker, Michelle Impossible, saranno soltanto due. Quando finisce, calendario puntate di seguito il calendario completo con la programmazione di Michelle Impossible e quando va in onda la seconda e ultima puntata? Prima puntata, lunedì primo agosto seconda puntata, lunedì 8 agosto programma Michelle Unziker, come funziona? Michelle Impossibile è un one-woman show dedicato ai 25 anni di carriera di Michelle Unziker. Due serate evento che vedono protagonista assoluta la conduttrice e gli ospiti che la accompagneranno sul palco. Col supporto dell'orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, Michelle Unziker condurrà, canterà, ballerà e si racconterà senza filtri, grazie alla presenza dei tanti amici e colleghi. E voi seguirete le puntate di Michelle Impossible, in onda stasera su canale 5? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.